Venerdì 15 dicembre alle 9.30 del mattino a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In questa data e in questa sede, insieme ai vertici della P2P di Pozzilli, arriveranno Francesco Roberti e Andrea Di Lucente. Il presidente della Giunta regionale e l'assessore alle attività produttive del Molise si presenteranno con una domanda. Perché la determina di Invitalia, necessaria allo sblocco della quota di finanziamento pubblico in tutto, 85 milioni di euro ancora non c'è, ad ascoltare e a dare risposte, si auspica, funzionari del Mimit e della stessa Invitalia, a caldeggiare l'incontro proprio alla regione che ha bisogno di capire la tempistica dell'iter o forse, addirittura, se questo sia effettivamente partito, così come riportato dai vertici dell'azienda e i lavoratori a seguito della missione a Roma di tre settimane or sono. Nella migliore delle ipotesi, quella della riconversione che sta passando alla fase operativa, da Palazzo Vitale si vuole capire per quando e quanto ancora la regione dovrà impegnarsi nel rifinanziamento degli ammortizzatori sociali ai 60 dipendenti. La cassa integrazione, infatti, a fine anno arriverà a scadenza. Intanto, a proposito di domande, dal fronte sindacale ci si chiede come mai loro non siano stati invitati a quel tavolo.